Musica A voi tutti il più cordiale buongiorno ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV questo è il canale 17 come tutte le mattine apriamo la diretta la nostra giornata con l'informazione e soprattutto con i giornali quotidiani che trovate come sempre nelle vostre edicole di fiducia allora cominciamo dal Santo del Giorno oggi sono tre in realtà i martiri c'è Nereo e Achileo ma c'è anche Pancrazio Nereo e Achileo sono due soldati romani che si sono convertiti siamo nell'anno 366 circa Pancrazio invece anche se non l'abbiamo indicato qua è un martire sempre venerato a Roma il sole è sorto alle 5 e 3 quarti tramonterà alle 20 e 24 il tempo oggi sarà irregolarmente nuvoloso per un transito di nuvole comuniformi avremo rovesci sparsi nella mattinata poi invece i fenomeni si esauriranno nel corso del pomeriggio le temperature sono stazionari domani venerdì 13 maggio tempo che migliora con possibilità di brevi piovaschi a ridosso degli appennini sabato il tempo ancora di nuovo perturbato con possibilità di piovaschi sulle zone appenniniche le temperature sono stazionarie per la prima parte di domenica ancora fenomeni di instabilità poi atteso un temporaneo miglioramento per il resto della giornata e l'inizio della settimana prossima andiamo a vedere un attimo al volo la telecamera esterna per vedere un po' com'è la giornata vedete ancora oggi non c'è nulla di primavera sembra proprio ancora in pieno inverno o comunque tardo autunno cominciamo dicevo a leggere i giornali andiamo subito sulla prima pagina del resto del Carlino di Pesaro bandiera mezzasta per Baia Flaminia che non ha ricevuto ottenuto il riconoscimento ambientale ovvero la bandiera blu dopo tre anni l'acqua dicono non è eccellente e c'è imbarazzo nel comune di Pesaro un ragazzino invece c'è dietro la telefonata minatoria il procuratore Manfredi Palumbo con sospiro di sollievo per lui aveva preso il cellulare del padre e ha sbagliato numero ed è arrivato al numero privato del procuratore della procura di Pesaro adesso voglio conoscere l'amore invece sono le parole di Lucia Nibali dopo la sentenza definitiva all'ospedale di Parma mi sono trovata come in famiglia ospedale dove è stata curata sin dai primi istanti aggredito dalle processionari invece questa è la pagina di Fossombrone Cagli e Urbani una brutta avventura nei boschi di Apecchio per un 36enne una brutta avventura è il caso di dirlo per Andrea Tocchini di 36 anni operaio di Valdara e una frazione di Apecchio è una vicenda dolorosa dice lui alle 9 di mattina si è incamminato nel bosco per circa un chilometro sul terreno di famiglia ci sono delle vipere guarda bene in terra se ci sono delle vipere una volta giunto sul luogo sistema il suo filo spinato non l'avessi mai fatto allo strattone del filo spinato che stringeva un albero corrisponde la caduta di un nido di processionarie che era posizionato proprio in alto sulla pianta e eccole qua le processionarie sono racchiuse in questo involucro sembra quasi di sete insomma e guardate gli effetti sulla pelle di questo ragazzo di 36 anni questo è il collo guardate come gliel'hanno ridotto va bene quindi attenzione perché ce ne sono davvero purtroppo ancora ancora tante in giro allora Voragini invece Orciano buone notizie perché dopo la rivolta ecco i soldi l'annuncio di Federico Talè consigliere regionale 450 mila euro necessari suddivisi tra regione e provincia e multiservizi marche multiservizi il prossimo passo sarà l'aggiudicazione quanto prima dei lavori dunque c'è questa copertura finanziaria tanto attesa per chiudere cancellare definitivamente la voragine di Orciano la notizia importantissima arrivata dal consigliere Talè che sul crollo di questa strada così importante nel cuore del paese di Orciano è stato artefice di due atti ufficiali e poi ancora sulle colonne sulle pagine del resto del Carlino la pagina di Fano domenica si vota per eleggere il nuovo consiglio dell'ente carnevalesca parla Federico scusate Giovanni Sorcinelli in arte giox maestro della cartapesta per sei anni presidente dell'associazione carristi fanesi che dice colleghi carristi rivolgendosi al comitato Pacassoni così non va non mi rappresentate a pochi giorni dal voto la categoria appare dunque disunita quest'anno hanno lavorato per due euro spaccando l'unità del gruppo e dicono quale dignità la pagina di Fano è tutta dedicata alla protesta per gli espropri e da realizzare per le opere compensative dell'A14 si infiamma questa protesta tutti riuniti ieri mattina davanti anche alle telecamere di Fano TV per dire un po' che cosa sta succedendo qui c'è il virgolettato di un uomo che è uno di coloro che dovranno cedere il terreno eccolo cerchiato con il giallo dicono mi tolgono anche il pozzo e adesso agli animali cosa darò il residente del quartiere di Tombaccia di Fano contro l'ANAS mi hanno già preso dice Venerino Bartolucci 4 mila metri di terreno per la terza corsia della 14 e ora mi vogliono espropriare un ettaro per realizzare la rotatoria Andrea Polverari dice invece quest'area archeologica è un'area archeologica abbiamo trovato parti di vasi antichi che consegneremo alla sovrintendenza e si sa che quando ci sono i vasi antichi o comunque quando c'è di mezzo la sovrintendenza insomma solitamente si ferma tutto quanto e le ruspe si bloccano adesso invece il Corriere Adriatico questa è la pagina di Pesaro Lucia è una vera forza della natura parla il professor Caleffi che è il medico che le ha ridato il volto nel suo futuro impegno sociale e umanitario l'altra pagina quella di Fano invece non passa la mozione popolare parliamo di Sanità Ospedale Unico De Marchi elenca le istanze di 1.353 cittadini che hanno firmato questa mozione sotto Palazzo Gabuccini in varie giornate e le anomalie della riforma regionale non compatto invece del centro-sinistra irregolare l'applicazione del decreto Balduzzi e assurda l'organizzazione dell'azienda Marche Nord sull'ospedale unico ecco bugie ed equivoci tante divisioni il rischio della sconfitta del territorio e poi il Comune di Fano che ha investito 2.13 mila euro per acquistare nuovi computer da sistemare nei vari uffici dei dipendenti servizi più efficienti così e risposte più celeri disponibili per i dipendenti del Comune 239 computer e schede di memoria per altri 130 la violenza è soprattutto virtuale dopo gli episodi di bullismo la neuropsichiatra Stoppioni mette in guardia sui rischi di internet Padre Bracci invece rivuole le statue linee lettera al sindaco e ai consiglieri opere storiche che appartengono a Santa Maria Nuova e ancora si dimette il vice sindaco Carloni siamo a Mondolfo attacco del candidato Loccarini ha asfaltato la strada di casa sua si infuoca dunque la campagna elettorale la lista marotta per una nuova città che candida sindaco Giancarlo Loccarini chiede al primo cittadino Pietro Cavallo la revoca del vice e assessore lavori pubblici al vice Carloni e appunto anche sul Corriere Adriatico la notizia che farà felici chiaramente non solo gli abitanti di Orciano ma un po' tutti quelli che passano da quelle parti la notizia data da tale ieri che ha trovato i fondi per ripristinare la strada e dunque chiudere la voragine dalla pagina di Senigallia invece del Corriere Adriatico Movida e Sballo parte la vigilanza privata i bagnini si organizzano anche con le spy cam che sono le telecamere spia quelle piccoline che servono per spiare spy cam mille miglia incombe lo sciopero del pubblico impiego Corinaldesi della FIBA dispiace per i disguidi che stanno rallentando il servizio notturno della municipale e poi ancora dal quotidiano delle marche minacce siamo sulla pagina di Pesor Urbino no lo scherzo di un quindicenne risolto il giallo della telefonata al procuratore l'autore è un ragazzino del Bresciano Palumbo ho parlato con il padre e gli ho detto che l'ho perdonato ma è stata chiaramente aperta una inchiesta e adesso andiamo sul messaggero il messaggero in prima pagina le bandiere blu tornano ma non abbaia famigna sorprese in comune che dicono è colpa delle piene del fiume Foglia se la qualità dell'acqua lì attorno non è un granché stessa cosa comunque vicino ai torrenti ai fiumi anche dalle nostre parti abbiamo già detto più volte Arzilla e Lido insomma sono senza bandiera non voglio essere il mostro Varani scrive dal carcere al suo avvocato pagare sì ma non per quello che non ho fatto il padre di Lucia Annibali lei dovrà ancora lottare almeno per questo calvario però questo calvario è finito quello chiaramente che riguarda le responsabilità le colpe e dunque il giudizio degli uomini Bruzzone invece difenderò la memoria di Ismaele parla la criminologa che darà battaglia al processo per l'omicidio di Ismaele e dunque il delitto di Sant'Angelo invado suicidio in questura svolta nell'inchiesta il giudice respinge la richiesta di archivazione del PM e dispone ulteriori tre mesi di indagine non è un suicidio Maria Rosaria Caruso non voleva morire quella mattina del 9 luglio di due anni fa ha sì premuto il grilletto della sua pistola d'ordinanza nel suo ufficio della questura a Pesaro ma qualcosa o qualcuno l'ha spinta a farlo il giudice Lorela Mussoni vuole vederci dunque chiaro vuole approfondire ancora questa inchiesta perché per questo ha respinto la richiesta di archivazione che è stata formulata dal PM Giovanni Narbone accogliendo l'opposizione avanzata dalla famiglia della poliziotta 47enne dalla sorella e dalla mamma che hanno chiamato ad assisterla un legale di Milano e ancora sempre dal dal messaggero per chiudere la resegna stampa chiudiamo con la pagina di Fano in apertura il nuovo ospedale è utile troppi no sono dannosi così il sindaco ha giustificato la bocciatura della mozione contraria al progetto in consiglio però sono tornati a galla i sospetti di maggioranza e opposizione Seri ribadisce la linea per il sito di Chiaruccia e dice se il San Salvatore fosse trasferito a Muraglia per il Santa Croce sarebbe l'inizio della fine e poi sulla pagina del messaggero la pagina di Fano si torna a parlare della vicenda del cronista ex cronista di Fano TV Sergio Catalani sull'istigazione alla violenza e dunque c'è nel dettaglio quella che è stata un po' la questione degli ultimi giorni dopo il derby vis Fano la decisione dopo l'intenzione della vis di sporgere denunce all'amarezza del direttore per l'assedio alla sala stampa durante il derby e poi c'è una fagiolata per ricordare Peppe Nigra del San Costanzo Show e poi anche qua vedete il parroco anti-espropri noi vittime due volte e gastronomia anteprima di Fano Geo organizzata dalla proloco un appuntamento che sta per arrivare il 20 di maggio organizzata dalla proloco di Fano in collaborazione con l'eno hobby di Pesaro e l'amministrazione comunale e dunque c'è un'anteprima direi che possiamo fermarci qui la rassegna stampa è finita vi auguro una buona giornata ci vediamo stasera alle 20.30 con il nostro telegiornale arrivederci di Fano Geo Grazie a tutti.